Si chiama Chineo Grassellini Boxe della nuova scuola di Pugilato ideata dall'ex campione internazionale Eugubino e maestro di boxe Gian Mario Grassellini nei locali della palestra Chineo a Gubbio per un progetto dedicato ai giovani e giovanissimi del territorio. La cosa bella del Pugilato è che è inclusiva. Qua anche quando mi arrivano, arrivano e scoprono un mondo, uno sport diverso dagli altri dove possono esprimersi, possono arrabbiarsi con loro stessi per imparare a non arrabbiarsi con il mondo. È bello perché comunque a livello Eugubino si è aperta un po' la mentalità, i genitori hanno molta meno paura di fargli praticare Pugilato. Il progetto che ho io quest'anno era di far combattere dei ragazzi nuovi, sono cinque ragazzi di Gubbio che hanno avuto tutti l'ambizione di arrivare a salire sul ring, un po' per gioco. E poi è successo come è successo a me tanti anni fa, gli è venuto bene e adesso si vogliono mettere in gioco nei palcoscenici un po' più grandi. Già folta la schiera di ragazzi e ragazze pronti a cimentare le proprie abilità sul ring. Ormai sono tre anni che mi alleno col maestro Grassellini, mi trovo molto bene e sono pronto a debuttare, è un grande sogno che mi inseguo da tanti anni. Sono prontissimo, non sto aspettando altro da tanto tempo, spero di arrivare ai livelli del maestro e superarlo se è possibile. Qui mi piace molto il gruppo, l'ambiente che si è venuto a creare con il tempo. Siamo tutti amici, ci si diverte e soprattutto c'è tanto impegno, tanta dedizione e tanta passione per questo sport. Mi piace parecchio questo sport, anche il gruppo, comunque ci conosciamo tutti, quindi mi piace anche la compagnia e tutto quanto. È poco che vengo in palestra ma il maestro Gia ci ha insegnato tantissime cose, siamo un bellissimo gruppo. Stiamo crescendo piano piano per formare una bella società. Il gruppo è solido, ci divertiamo mentre ci alleniamo e questo significa tanto, comunque è uno svago rispetto anche ai problemi della vita quotidiana. Quando vengo qua mi sento molto tranquilla e riesco a sfogarmi più o meno dai problemi di tutta la vita e quindi mi sento bene. Un progetto che si sviluppa nel contesto del centro Kineo Fitness e Wellness, palestra della salute, che conta oltre 30 professionisti e molteplici attività. Il nostro scopo è quello di individuare il bisogno del nostro associato attraverso un'attenta analisi effettuata dai nostri professionisti. La nostra visione è salute e benessere a 360 gradi, dando un pizzico di divertimento perché la varia scelta di attività che sono qui partendo dalla box, calisthenics, tutto ciò che riguarda il settore olistico, i pilates reformer, il sailing, la danza, attraverso l'analisi della persona forniamo degli strumenti dove permettono di acquisire un stato di salute e benessere ottimale. Prossima sfida per la Kineo Castellini Box, partecipare con i suoi giovani atleti ai primi incontri e provare a portare un grande evento pugilistico a Gubbio. La parte mia l'ho fatta, la storia mia l'ho fatta, adesso sto tramandando valori per poterli dare un continuo. La cosa che mi piace tanto è che tra un mese è facile che li vedremo in una riunione di pugilato e sto cercando anche sostegno per farla qui a Gubbio, come si faceva una volta alla Polivalente.